L'alta pressione che ci ha garantito tempo stabile, addirittura un inizio di estate molto calda, anomala, si va attenuando, si attenua velocemente e questo vuol dire che lascerà spazio ai sistemi perturbati che inizialmente interesseranno le regioni nord-occidentali, ma già in questo fine settimana interesseranno anche le nostre zone. Prevediamo infatti sul Bassanese e sul Vicentino. Per domani, tutto sommato, una giornata ancora discreta, quindi con una nuvolosità irregolare, il cielo comincia a coprirsi, però ci sono spazi di sereno. Per domenica invece inizialmente dalle prime ore abbiamo già una buona copertura del cielo per nubi, poi un'intensificazione già in tarda mattinata con precipitazioni che nel pomeriggio, poi nel primo pomeriggio, assumeranno anche caratteri temporaleschi, quindi anche di una certa intensità. In serata poi un nuovo miglioramento, comunque il tempo rimarrà instabile anche per i prossimi giorni, poi per i inizi della prossima settimana. Gli eventi sono moderati, deboli, con qualche rinforzo durante i temporali dai quadranti medidionali, quindi abbiamo venti di scirocco. Le temperature ancora alte, nettamente al di sopra della media, 23, 22, 23, 24 gradi addituale minime, le massime toccano ancora i 30 gradi e il percepito è molto più alto per la presenza di un alto tasso di umidità. Per finire l'altra triatica è previsto quasi calmo, poco mosso.